Leggendo gli americani, mi è venuta voglia da ragazzo, cominciando con Pound, Eglio, tutta la... Whitman, tutti gli americani, allora per me la poesia è diventata qualcosa di strutturale nella mia crescita, mentre gli italiani non... cioè, noi avevamo Pasqua, Lungaretti, che non erano per la mia generazione nutrienti, ecco, invece gli americani che avevano più forza, più voglia, più radicali in tutto, erano una grande fonte di ispirazione. Certo, certo, ricordiamo infatti che tu, oltre ad essere poeta, sei saggista e anche traduttore, ti sei occupato molto degli angosassoni. Ho tradotto qualcosa di Pound, ma tanti anni fa, le ultime poesie che ha scritto, ed è stata un'esperienza terribile, perché l'inglese è una lingua come un'anguilla, dove la prendi, la prendi, non si capisce mai, ed è difficile tradurre, per cui poi non l'ho più fatto, ecco.